Partire proprio dalle parole di Luigi Di Maio, peraltro è un paradosso questo, per cui siamo costretti a commentare l'edicazione del Movimento 5 Stelle senza avere la possibilità di un confronto diretto, ma insomma fa parte delle caratteristiche della stagione che stiamo vivendo, perché quando si dice l'Italia può crescere se diventa l'Italia delle start-up e questa è la chiave di politica economica del movimento per far ripartire il Paese, si fa riferimento a un grande inganno, perché oggi c'è una disoccupazione giovanile non più sostenibile e l'Italia tra i Paesi europei ha livelli tra i più alti di disoccupazione giovanile, sta passando questa idea per cui in assenza totale di una politica economica vera che aggredisca il tema generazionale di come rimettere i giovani nel mercato del lavoro, si fa passare l'illusione che tutti possano diventare dei piccoli Bill Gates tant'è che nelle amministrazioni pubbliche, regionali, comunali, piuttosto che a livello di politiche nazionali si distribuiscono un po' di risorse, peraltro sono risorse private di banche su garanzia pubblica per far nascere delle start-up che hanno un altissimo tasso di mortalità, cioè muoiono dopo poco è un grande inganno, perché i Bill Gates nascono non perché dai qualche spicciolo a qualche creativo ma perché c'è un'idea di Paese e di come fai di partire il Paese in relazione soprattutto al tema degli investimenti pubblici in innovazione, in ricerca, cioè dietro la suggestione del reddito di cittadinanza su cui dico qualcosa per 30 secondi, c'è nulla dal punto di vista della politica economica che cosa ha fatto il Movimento 5 Stelle in questi anni? Ha appunto lanciato questa suggestione che ha funzionato cioè dire con il reddito di cittadinanza a appunto i penultimi, gli ultimi quelli che si sono trovati in una condizione di difficoltà guardate che noi stiamo studiando un meccanismo di protezione sociale, di rete sociale per cui nessuno, nessuno, nel momento in cui dovesse cadere nel vuoto deve restare solo, noi lo ripeschiamo e il grande errore del Partito Democratico in questi anni è stato sbeffeggiare questa suggestione dire che quella roba lì era assolutamente campata per aria a proposito dei partiti che scippano il mestiere alla sinistra è successo questo in Italia, il Movimento 5 Stelle ha abitato un pezzo dell'immaginario collettivo di un pezzo della popolazione di questo paese con suggestioni di questo genere insisto, dietro questa suggestione il nulla cioè non c'è un'idea vera di paese, di politica economica allora io dico, noi dobbiamo ripartire da lì dal tema della protezione delle fasce più fragili della popolazione naturalmente, il discorso sarebbe molto lungo la tesi sovranista per cui chiudiamo i confini per proteggere i nostri poveri non mi convince fino in fondo perché appunto dopo gli ultimi ci sono altri ultimi della terra cioè i disgraziati veri, quelli che scappano dalle bombe quelli che muoiono di fame poco lontano da qui arriviamo alla famosa globalizzazione ieri mi hanno colpito le parole di Veltroni è un epilogo strano della sinistra perché a un certo punto Veltroni ha detto la sinistra può essere pensato troppo alla globalizzazione sì, però è un epilogo strano quello della sinistra per cui diversi decenni fa ha iniziato a parlare di governo mondiale di questi processi e oggi predica sovranismo che ha delle sue ragioni proprio perché non ci siamo più occupati di quelli che nelle nostre periferie, nelle nostre città fanno la fila a pane quotidiano a Milano alle Caritas in giro per l'Italia perché non hanno di che mangiare persone persino che hanno un lavoro stiamo parlando di condizioni di questo genere che non arrivano alla fine del mese che la soluzione sia la chiusura mi sembra una soluzione improbabile una soluzione improbabile